Siamo qui a riuscire a enfasi di sierra Siamo qui a riuscire a enfasi di sierra Musica e la culla per il mio riposo Dentro questo mondo sto in disparsa Come dentro al selfie di uno sconosciuto che mi ha preso un istante Felicità distante, tipo me e te Prima mercurio e sole, ora brutto le marze Vorrei conoscere una donna senza dialogare Baciarla con la mente, pensarla con le mani Senza fare i progetti per domani Senza montare a quelle posizioni ambitele Le nostre vitele, le nostre corsele Le nostre crisi, le nostre forze Io sono al centro di un vortice e la testa pensa Tipo per inerzia, dimensione densa Raga, ditemi qua sotto nei commenti se volete la carriera allenatore L'ho già provato a portare, l'ho già messo qualche puntata Ma poi, l'ho finessa Quindi se la volete, questa volta la continuerò Le avevo portate due Una avevo fatto solo una puntata Una già tre, già quattro puntate Però non mi sapevo è Ma comunque sulla canzone volevo dire Non mi piace Un'episositiva Ma non canta solo Sierra Comunque raga, su Di Martino ci ho ripensato, non farò la reaccia, non la farò Ci ho ripensato, scusate Ehm, bene Ma la canzone mi piace molto, devo dire E' una delle prime canzoni che ho sentito ultimamente Che mi sta piacendo veramente tanto Delle reaccia, non è una bruta che ho fatto la reaccia Che mi sta piacendo veramente tanto Credo che la scarico sul telefono, scusate raga Dite a me pure se volete la classifica delle mie 10 canzoni preferite Che ve la farò Grazie per il video vi ci ha piaciuto Ci vediamo alla prossima show ragazzi, ciao